un saluto cari amiche e cari amici vi invito sempre iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione mi raccomando mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube la palla di pelle rassegna stampa di oggi venerdì 26 luglio partiamo dal corriere della sera l'articolo di monica colombo sul matrimonio di adriano galiani al quarto matrimonio con marzullo testimone si sposerà con elga costa la sua compagna da anni a villa gernetto l'otto settembre tra gli ospiti marta fascina dice adriano galiani non ci sono commenti da fare perché alla mia età non c'è nulla da celebrare con enfasi volare bassi anzi sto lavorando ho appena trattato la cessione in prestito di colpani alla fiorentina adriano galiani che compirà 80 anni il 30 di luglio villa germeto è la sede a lesmo che non è solo la sede dell'università del pensiero liberale secondo gli antichi progetti di silvio berlusconi o la dimora lussosa per i ritiri del monza quindi questo è l'articolo di monica colombo ma c'è un altro articolo gaia piccardi andiamo a leggere cosa dice lei che si occupa tanti sport ma soprattutto di tennis sulla situazione di singer prudenza allora prudenza è la parola d'ordine di un gruppo di lavoro molto attento a rispettare le esigenze di un corpo che non ha ancora terminato di crescere e la volontà di un giovane uomo che a 22 anni sta investendo come mai prima sulla vita privata te la senti di giocare a madrid dopo aver avvertito l'anca la famosa anca pizzicare nella semifinale di monte carlo con zizi pass sì e di affrontare uno slam parigi come torneo di rientro dell'infortunio sì e di tornare a parigi per i giochi con la tonsillite no l'ultima parola è sempre del giocatore perché la fragile salute è sua gli acciacchi imposti dal tennis moderno andranno gestiti per tutta la carriera e perché il capo ufficio di tutti gli altri certo saranno fatti esami più approfonditi per capire l'origine dei tre virus in tre mesi influenza di roma drammatico calo di pressione a londra tonsillite di fine luglio dovranno essere rialzate le difese immunitarie del ragazzo e qualche leggerezza non verrà più commessa qui sulle leggerezze certe cose potevano essere gestite meglio lì mi sfugge ha detto a sinera o in bledon dopo la sconfitta con me medvedere e verranno gestite meglio si avvicina la parte di stagione in cui il trono è più attaccabile è una fase di assestamento con le elezioni incorporate e dunque passerà andiamo a a un altro quotidiano passiamo alla gazzetta dello sport caccia all'oro ovviamente iniziano le olimpiadi tutti i titoli sono per i nostri atleti ieri era con gli nostri atleti anche il presidente mattarella a parigi comincia la grande festa così si cancella anche la paura dopo tokyo e la pandemia le olimpiadi ritrovano la dimensione più bella uno show per tutti a seguirli giorgio specchia fra i tanti giornalisti tanti colleghi che saranno presenti a parigi ormai è parità dopo 128 anni anche le azzurre in prima fila puntiamo a quota 50 dalle conferme di tamberi e titabanti all'ascesa di abbes e dice con obiettivo 13 ori voglia di oro ganna scutte scutto e la 4 per cento stile per lanciare il sabato italiano cercherò di andare tutte le mattine cercherò di dirvi a che ora corrono giocano si lottano per vincere una medaglia gli atleti italiani la parola di mattarella il presidente c'è fateci sentire spesso l'inno sarà un successo quello di sinner rinuncia doloroso parigi ci stupirà queste le parole del presidente del coni giovanni malagò andiamo al calcio rimaniamo ancora un attimo al tennis l'italia oltre sinner occasione musetti nadale a rischio ha una gamba fasciata paolini all'attacco voglio due medaglie giriamo e andiamo al calcio protagonista come sempre in questo periodo la juventus juve si chiude per dodibo oggi ok dal nizza per il prestito poi sarà l'assalto a cop miners i wing the winter ecco in due mesi cessioni per oltre 87 milioni juve a casa a dei emi ma la pista galeno è sempre più calda ieri è partito anzi ieri è stato è stata chiusa la trattativa che vedrà hoisen al bormuz milan doppio colpo qui andiamo sempre con lo stesso doppio colpo paulvic subito intesa 20 milioni ritorno di fiamma per emerson royal però voi che mi seguite sui miei canali sapete tutto non c'è molto da aggiungere a questo a quello che vi ho sempre detto vediamo se invece c'è qualche novità sì le frasi di cardinale la nuova nostra frontiera saranno gli eventi dal vivo non c'è molto da aggiungere per quello che riguarda il mercato del milan abbiamo già detto questa mattina quindi non c'è novità paulovic emerson royal più vicini di altre fofanà vediamo il problema che si è diciamo stato bocciato nelle visite mediche e annaui che era il giocatore che avrebbe potuto sostituire fofanà se avesse fofanà sarà andata via dal munaco ma un problema al ginocchio che aveva subito il 2 di maggio non è ancora guarito e il giocatore è stato bocciato le visite mediche non so se questo porterà ulteriori ritardi o problemi come vi ho già detto alla trattativa milan fofanà inter più turnover in missione europa in zaghi ora cambia da terremio a frattesi le scelte aumentano carboni al marsiglia c'è l'offerta arna e correa a caccia al 13 prestito e riscatto a 40 milioni il sì ora è molto vicino gli altri due addi per un risparmio di 13 milioni arnautovic e correa andiamo vediamo se c'è qualche a tutto ecco su questa io non credo molto poi mi posso sbagliare a tutta su dovbic gelo con l'atletico i suoi agenti a roma l'ucraino più vicino solito discorso anche il milan con gli agenti c'è l'accordo e poi bisogna vedere con il girona per me rimane sempre favorito l'atletico vediamo se la roma sarà così brava di effettuare il sorpasso arriva il regista arriva il regalo colpani per la frentina maldini monza avanti insieme gagliani lo prende a titolo definitivo come scatenato ha preso audero per la porta più esperienza per fabregas azzurrini belli e sciuponi alla fine passa la spagna peccato la sconfitta dell'under 19 passiamo a un altro quotidiano andiamo vediamo andiamo al corriere dello sport corriere dello sport vediamo la pagina del corriere dello sport corriere dello sport che titola eccolo qui tutto l'oro del mondo parigi blindata in 300 mila lungo il fiume l'italia sfila con israele is anche per una questione di parfabetico siamo presenti in tutti gli sport individuali possiamo superare le 40 medaglie di tokyo mattarella ospita tamberi in aereo e pranzo al villaggio con gli azzurri vi porto l'affetto del paese il triplete di tiago 48 milioni per copto di bo e sancio io sulle e hoisen finanziano tre colpi l'assalto le mattarello un giorno d'azzurro con gli un giorno d'azzurro con gli azzurri questa sera bello sono sempre belle le cerimoni la più bella forse quando daniel craig 007 accompagna la regina e che si scende col paragatute una immagine meravigliosa la regina elisabetta adesso andiamo to di boe cop si fa così la juve ai soldi può sfruttare adesso la doppia operazione per il francese via va più vediamo per il francese via più in discesa rispetto a quella di cop miners motta per vincere serve questo attenzione a dei emi qui a dei emi lo mettono un pochino più lontano perché dicono che è caro invece era più possibilista la gazzetta andiamo la roma chiama dovbi che la roma ora ci crede visolfi ha incontrato gli agenti che hanno aperto al trasferimento l'atletico madrid quello che vi dicevo resta in vantaggio vediamo andiamo la lunga attesa di osi mer gilmour brescianini il futuro dice napoli in scadenza senza timori appese a un anno di inter sono tanti giocatori scadenza all'inter danfres acerbi devrai darmian e arnautovic milan ora paulovic poi sprint e royal per noi per voi che seguite il mio canale nessuna novità vi ho già detto tutto ieri su questa situazione non sia pan come vi ho detto non si abbandona la pista pofanà in attacco si cerca un vice morata quindi qui novità non ce ne sono sui giornali voi che mi seguite sapete tutto già da ieri sera sia questa mattina d'altra parte cerco di precedere quello quello che dicono i giornali giorno dopo la viola si prende col pane ora si apre la pista per test man la fiorentina molto attiva ti titoli di coda per hummels la il bologna da tempo tedesco fino a domenica poi cambierà obiettivi mazzitelli da fabregas castanos verso verona il barça torna gol dice il presidente del barcellona salernitana idea malta antonucci valcesena addosso sempre qualche notizia anche di serie b e c ternana su di maggio rimini falvo colpi anconi in arrivo baldecod e crodo maz e chiudiamo con tutto sport tutto sport titola da italia vai oltre sinner juve motta fateci vedere norimberga ore 17 da son la prima bianconera mentre si scaldano tutti i fronti del mercato i titoli sono tutti sulla juventus ma non perché la juventus anche perché la juventus ma perché in questo momento è la più attiva in cessione e in acquisti hoisen va con sulle 50 milioni decisivo anche il diciamo la presenza nel club al club inglese di tiago pinto che ha avuto hoisen in prestito alla roma negli ultimi sei mesi dello scorso campionato quindi lo conosce bene per coppa arriva l'offerta per a dei emi il contatto è la juventus lavora con per a dei emi è già scattato il to di bottaim pronto a diventare un leader di questo toro vediamo chi lo dice ricci milan vediamo dopo eccolo qua spina americani in zaghi cambia con octri deve crescere i giovani acerbi simbolo di un meccanismo che ora dovrà cambiare gli ingranaggi ansia fonseca emerson royal però è un passo con il tottenham accordo vicino poi c'è l'accelerazione per pla pavlovici ma l'ansia è perché devono arrivare altri giocatori direi che scatto del monza il maldini il ritorno l'ambizione di flick vediamo in campo internazionale unità united the bayern su xavi simons ma il paris saint germain assicura è incedibile smith row vicino a lasciare l'arsenal il fulham mette sul piatto per smith row 41 milioni se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelegati attivate la cammina e scaricate il link in descrizione